Alfonso Signorini pubblica un video con Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli e accende le speranze dei fan. Un annuncio dato nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello VIP andata in onda lunedì 13 ha messo in agitazione il popolo del web. Giulia Salemi ha infatti ammesso, dopo essere stata sollecitata da Alfonso Signorini, di vivere un momento di crisi con Pierpaolo Pretelli. Il rumor che si stava rincorrendo da giorni si è rivelato purtroppo fondato. Successivamente è intervenuto anche l'ex vippone, chiedendo privacy in un momento così delicato. Sebbene siano entrambi consapevoli di essere una coppia nata sotto i riflettori. Fra l'altro, come lo stesso Pier ha raccontato, i due ci hanno tenuto a essere i primi a parlarne per evitare speculazioni. Poche ore fa però, un reel pubblicato dal conduttore, loro grande amico, ha riacceso le speranze dei fan. Grazie. 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 Grazie.